Finalmente l'Unione Europea si sta rendendo conto di quanto sia gravissima questa vicenda e noi italiani queste cose le tocchiamo con mano ormai da anni. E io ho fatto un gesto simbolico che è stato quello di regalare a tutti i capi di Stato e di Governo il DVD di Fuocammare che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, un grande film, un grande reportage e credo che sia un segnale del fatto che le discussioni a cui tutti i paesi adesso sono finalmente arrivati noi in Italia le conoscevamo già da molto tempo.